quello che segue senza alcuna spiegazione potrebbe essere ovvio per alcuni ma serve per illustrare gli effetti visivi del cambiamento del raggio fisico del suolo acqua il modello in 3d rispetta le stesse regole di prospettiva che si applicano nella vita reale non è stato applicato nessun tipo di rifrazione indipendentemente dal raggio fisico dove si possono inserire i dati di due punti conosciuti elevazione e distanza ovvero l'altezza dell'osservatore e il campo visivo di una fotocamera con queste misurazioni si possono confrontare le aspettative geometriche di qualsiasi modello terrestre che stiamo studiando ossia piano concavo o convesso l'utilità di questi confronti è che se non siete in grado di comprendere semplici concetti di prospettiva e geometria significa che non è uno strumento utile per voi continuate a credere Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.